L'invito e la partecipazione al progetto delle piccole scuole che si terrà a Favignana rappresenta per noi un evento molto importante e soprattutto rappresenta per noi uno spartiacque e ci apre uno scenario completamente diverso perché attraverso questa esperienza e soprattutto il report che mi fa la mia vicepreside ci entusiasma talmente tanto che decidiamo di mettere in atto quelle che sono le strategie proprio di questa esperienza. La scuola di Alserio ormai è ben consolidata, ben organizzata e quindi non vive più un momento di crisi però questo è il momento di dare e di implementare delle nuove strategie didattiche grazie anche all'esperienza e quelli che sono i suggerimenti dell'esperienza di Favignana. Ci mettiamo come sempre al lavoro in equip tutte insieme e cerchiamo di dare una versione nuova a quelle che sono le nostre prerogative. E una cosa impariamo, dobbiamo mettere insieme due parole tradizione e innovazione e credo che queste due parole sono quelle che ci guidano nel rendere sempre più importante questa sfida rappresentata da queste piccole scuole che mi piace ribadire in questa sede che non è soltanto rappresentata dall'esperienza di Alserio ma anche di Anzano quindi sono due piccole realtà che fanno parte comunque del nostro istituto comprensivo. voglio ribadire una cosa che l'innovazione più importante che si realizza all'interno di queste due piccole scuole sono la strategia didattica della videoconferenza e qui i nostri docenti imparano questa nuova tecnica questa nuova strategia che è sicuramente nuova per noi e attraverso la didattica innovativa e formativa si stringono nuove alleanze e nuove sinergie con il territorio. Si sono organizzate molte attività che hanno come scopo la ripresa di vecchie tradizioni quindi anche bruciare la vecchia giubbiana ma non è soltanto quella riattivare e dare un significato diverso a quelle che sono le attività del territorio in sinergia anche con la Proloco. Volevo ribadire l'importanza di lavorare in equip, di essere una comunità collegata con il territorio e quindi in questa ottica rientra anche un'alleanza che si fa anche con l'associazione genitori che più volte qui è stato ribadito e qui anche i genitori si attivano rappresentano una funzione molto collaborativa perché sono di supporto a quelle che sono le nostre iniziative. Questo per me vuol dire fare una scuola che si apre sul territorio che collabora non solo con le autorità comunali che sono molto sensibili e che condividono il nostro percorso didattico ma anche è importante avere questa alleanza con i genitori perché insieme a loro faremo, abbiamo fatto nel passato ma anche nel futuro faremo un percorso insieme e daremo importanza a quello che è la nostra offerta formativa. Nei nostri documenti ufficiali, quali PTOF e quali RAV assolutamente insistono sulla necessità di dare un senso di collaborazione di rendere la nostra scuola una scuola di qualità e quindi questo è il nostro percorso che vogliamo fare fino in fondo alleandoci con tutte le associazioni che sono anche presenti sul territorio. L'esperienza di Favignana per noi è stata davvero un'esperienza importantissima indispensabile per la nostra crescita e Favignana ci ha insegnato che dovevamo dirigerci verso un percorso didattico formativo diverso che avesse come tema privilegiato il valorizzare le competenze dei nostri ragazzi aumentare sì la qualità della nostra offerta ma al tempo stesso potenziare, valorizzare quelle che erano le nostre competenze europee che ci venivano richieste dall'Europa che sono le abilità prettamente scientifico-matematiche e seguendo questo percorso abbiamo ritenuto determinante per noi aderire a quelli che sono i progetti PON cioè quelli che si avvalgono dei fondi europei e il nostro PON che ci è stato finanziato è dedicato alla potenzialità e alla valorizzazione di queste competenze logiche, scientifiche e matematiche e infatti una cosa positiva che ritengo molto importante per il nostro istituto è che queste competenze scientifico-matematiche e logiche che avevano soprattutto come tematica privilegiata lo sviluppo del problem solving erano destinate non soltanto ai ragazzi della nostra scuola primaria ma anche della scuola dell'infanzia e quindi questo ci ha arricchito sicuramente sia dal punto di vista dell'esperienza che dal punto di vista didattico formativo il nostro PON che ci è stato finanziato con ben 58 mila euro si è rivolto non solo ai ragazzi, agli allievi della scuola primaria e della scuola secondaria ma anche a quelli più piccini, quelli dell'infanzia e infatti il nostro PON, quello dedicato alla scuola dell'infanzia ha come titolo 1, 2, 3 stores mentre quello della primaria e della secondaria si chiama numeri, segmenti e bastoncini quindi già dal titolo si può capire bene che le competenze messe in atto sono legate comunque alla sfera scientifico-matematica si apre così per noi la stagione dei PON cosa sono i PON? i PON sono dei finanziamenti europei che hanno come tema lo sviluppo di alcune competenze che sul suggerimento anche delle indicazioni europee ci dicono di valorizzare alcune competenze come quelle legate all'area scientifico-matematica e così dopo, ripeto, dopo lo scenario aperto dall'esperienza sicuramente positiva di Favignana ci avventuriamo anche su questo percorso dei PON l'istituto comprensivo di Lurago quindi riesce ad avere un finanziamento molto importante sono circa 58 mila euro che grazie al quale riusciamo a realizzare e a portare a casa questo PON ripeto, le competenze che mettiamo in atto sono quelle legate alle competenze logico-matematica e più dello stretto, diciamo, più da vicino dobbiamo assolutamente valorizzare quello che è definito il problem solving il progetto europeo, quindi il nostro PON è dedicato non solo ai ragazzi che frequentano la scuola primaria o la scuola secondaria ma anche ai più piccini, quelli che frequentano la scuola di infanzia che, tra parentesi, la scuola di infanzia è presente anche nella realtà della scuola di Alserio e il PON europeo rivolto ai bambini dell'infanzia si chiama One, Two, Three Stars ed si basa sulle competenze, sulla valorizzazione dell'inglese quindi viene insegnato, vengono, diciamo, organizzate delle attività in lingua inglese e poi ci sono anche delle attività legate alla psicomotricità mentre il PON europeo, che appunto viene a noi destinato è quello rivolto alla scuola secondaria e alla scuola primaria entrano più nello specifico, sono più legate alla disciplina e per questo motivo, diciamo, si approfondisce quelle che sono le abilità scientifico-matematiche quindi, anche con questa esperienza, riusciamo a, diciamo, a trasmettere e soprattutto a realizzare delle innovazioni formative e didattiche che sono assolutamente nate dall'esperienza di Favignana e che sono realizzate anche all'interno dell'esperienza di Alserio e credo che questo mettere, diciamo, sotto una luce diversa potenzia ancora di più la struttura di Alserio che assolutamente non è più isolata ma diventa una realtà molto propositiva sul territorio grazie a tutti grazie a tutti